Dopo due giorni di proteste e scontri tra polizie e manifestanti, sembra ancora lontano il ritorno alla normalità a Notre-Dame-de-Lande, nell'ovest della Francia. Dal lunedì, infatti, sono in atto le operazioni di evacuazione di un campo abusivo, costruito nel 2012 per bloccare la costruzione di un aeroporto. Le ruspe non hanno risparmiato una quarantina di baracche, edificate negli anni dagli attivisti zadisti. In seguito agli scontri, quattro poliziotti sono rimasti feriti, uno di loro è stato ricoverato in ospedale. Gli attivisti si rifiutano di lasciare il campo di Notre-Dame-de-Lande, nonostante il governo Macron abbia deciso di abbandonare il progetto di costruzione dell'aeroporto.